L'esasperazione ha raggiunto livelli di guardia, provate voi, ci dicono, a vivere tutti i giorni con i cattivi odori che provengono da questa zona. Non ce la fanno più i residenti che abitano poco lontano dal depuratore cittadino accorato, con l'estate i problemi si fanno addirittura più gravi. Colpa del vento in alcuni casi, molto più probabilmente del cattivo funzionamento di questi impianti, finiti sotto accusa più di una volta. Emana esalazioni, maledoranti, quasi tutte le giornate, ma specialmente quando il vento spira verso la città. Noi siamo costretti a tenere le finestre regolarmente serrate, anche quando ci sono 40 gradi. Tra l'altro noi abbiamo avuto molti incontri con i gestori, cioè a livello così informale, se vogliamo dire. Sa che cosa, quali sono le cose che si sono fatte per uviare a questo? La barriera erborea è che personalmente noi del quartiere veniamo a mettere su, a legare, perché altrimenti... Ma vi prego di vedere di che dimensioni è. E' un cannoncino spara profumo, cioè lei se non si lava e si mette il deodorante dopo profuma, è così insomma il problema. I residenti del quartiere, a ridosso del depuratore gestito dall'acquedotto pugliese, si sono riuniti in comitato. Gli esposti alla magistratura non si contano più. Al nuovo sindaco chiedono interventi seri. Abbiamo dato anche i minuti per minuti che si senteva la pozza. Mattina, sera, pomeriggio, no? Sempre. Siamo venuti qua, alla fine non si è fatto niente. Nessuna replica da parte dei gestori dell'impianto. Uno dei responsabili ha preferito evitare domande e si è allontanato a bordo di una macchina della polizia locale. Grazie a tutti.